Esattamente un anno fa, il 15 aprile del 2021, un rappresentante di Gioelli Umbro fu rapinato nel centro storico di Pesaro di una borsa contenente articoli preziosi del valore di 30.000 euro. 12 mesi dopo, la squadra mobile di Pesaro è giunta alla conclusione di complesse indagini che hanno consentito di rintracciare tre professionisti del furto campani e condannarli agli arresti domiciliari. È un reato molto insidioso che va ad incidere profondamente sul senso sociale di sicurezza. Si tratta di un furto con strappo che è avvenuto esattamente proprio il 15 aprile 2021 e che ha richiesto notevole tempo e anche molti mesi di lavoro per poter giungere alla sua individuazione. Ma comunque i responsabili sono stati assicurati alla giustizia. Il rappresentante è stato pedinato mentre usciva da una gioielleria di via Curiel e al momento di riporre i gioielli all'interno dell'auto parcheggiata fra Piazzale Lazzarini e Garibaldi, è stato derubato della borsa a tracolla da un uomo dal volto coperto da un casco integrale che è repentinamente salito su una moto guidata da un complice dileguandosi. Dicevamo è un tipo di reato che si connota per questa caratteristica appunto di essere itinerante, sono trasfertisti e quindi cercano di occultare in tutti i modi i propri connotati fisici e anche rendersi assolutamente riconoscibili proprio per evitare e rendere molto più difficili le indagini. Nonostante la pochezza di elementi utili al riconoscimento dei ladri, compresa una targa della moto risultata clonata, le indagini della squadra mobile sono riuscite attraverso le immagini di videosorveglianza presenti su tutto il territorio a monitorare il ripetersi di un particolare modus operandi che utilizzava motociclette e un'autovettura d'appoggio. Una volta scoperta una macchina noleggiata a Napoli guidata da un terzo complice, la polizia ha anche individuato un albergo di Pesaro in cui il terzetto ha soggiornato esibendo false carte d'identità e da lì è partita una complessa serie di verifiche incrociate che ha permesso di rintracciare a Napoli i tre indagati già pregiudicati per simili reati e assicurarli alla giustizia.